Salve a tutti ragazzi e bentornati su Q2S Server 2 con un'altra puntata di Watch Dogs Quelle che faccio io sono puntate abbastanza inutili di Watch Dogs quindi capisco tranquillamente se voi non ve le guardate insomma Allora un altro convoglio da distruggere, questa volta è la prima volta che arrivo qui quindi devo andare velocemente Dove cazzo sta andando? Parte da questa parte Lo blocchiamo sul nascere questo malvivente, oh perfetto. Madonna che ammazzata No no la polizia no, la polizia no 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 Oh no questi cittadini lì ha il dovere Allora vediamo un attimino Eh tanto ormai Ok aspettiamo che arriva Aspettiamo che arriva Aspettiamo che arriva 80 metri possono essere abbastanza Neutralizza Spatabum Eh? Oh andò mai E vabbò polizia Via Via Il bersaglio è stato allertato Oh zio Ma io l'ho ammazzato Scusa zio Non è che macchina Come l'ho ridotta Guardate qua come l'ho ridotta Oh Vedi che strada ti fa Ok Però ho finito una missione Dai sono stato bravo Oppa È soggetto a piedi Ma se si rialza è anche meglio Dai 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 Corri corri Oh Una bella macchina Una bella macchina Oh Ma chi è che ha detto di rimettere Io come al solito Inizio il gameplay così male proprio Grazie Via 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 Io su Watch Dogs Farei solo questo proprio Con vogli Poi scappiamo Ops 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 Scusate Non l'ho fatta apposta Oh Oh no Oh no La macchina Oh no Ok sono un po' Fastidioso Si lo capisco Immaginate Essere un pirata della strada Con il joypad in mano Oh Oh No ma che gusto c'è Ammazzare le persone In effetti no Ops Ok Perfetto Devo trovare un Ops Ma è indistruttibile questa macchina Via Acherò tutto Acherò il mondo Dissuasori Perfetto Ottimo Aspettiamo Dissuasori Dissuasori Boom Ok Ok Gli ho fatti sbattere Perfetto No Ce ne sono altre Guarda una moto No C'è la batteria scarica No Anche volendo Non posso bloccare il ponte Aspetta che si ricarica la batteria Guarda C'è una macchina Ops Madana Oddio 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 Lampione 100 punti Mamma Delirio Ma perché Ma sta macchina è indistruttibile Ho trovato la macchina perfetta E vai Perfetto 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 Oh Ci sono riuscito Poi non ho capito perché Perché sono l'unico stronzo che riesce a saltare il ponte Sposta che trovi un ponte e vinci tutto qui Facciamo fare un po' di incidenti Oh Perfetto Abbiamo vinto Abbiamo vinto Cioè No no il camion non ho Fuga è riuscita Perfetto Mi piace vedere gli incidenti Wow Wow Guardate questo Voglio vedermi l'esplosione Vabbè Oh Un altro convoglio militare Un altro convoglio Oh Redes Come guidi bene Sì Lo so Ok Ok ci risiamo Ci risiamo con un altro convoglio Solo che adesso abbiamo pochi punti del goblin E quindi potrebbe essere un problema Un problema di quelli Madonna Non è che botta L'ho sentito distintamente Pfff Proprio Proprio questo Oh Perfetto Oh Oh Ok Adesso Scendiamo qui E proviamo a vedere quello che Succede Madonna quanta gente Oh Mamma mia Vediamo un attimo Vediamo un attimo che succede Mi scavalca Ok Ci siamo ragazzi Sono tutti in attesa E il bersaglio è morto Dovevi solo atterrarlo Ma sti cazzi Ma vende gli organi Come fai ad atterrarlo Ma no E come faccio Vabbè ci dobbiamo riprovare Non c'ho manco la macchina Ci sono le strisciette Della mia macchina Ma non c'è la macchina Vabbè Andiamo a recuperarla Oh Tenteremo un approccio Completamente scienziato Proprio Così Siamo Completamente Ma Porca puttana Ma stanno Ma loro mi possono Che capocciata Ma loro mi possono Ammazzare Noi no Come faccio a interrompere la missione Non la voglio più fare Sapete signori Mi piace particolarmente Dare fastidi ai pedoni E Alle persone in macchina E Questa qui Guardate le animazioni Le animazioni facciali Ma Adesso proviamo a doppiarla Ti togli la cazzo Hai capito Ti devi togliere Al cazzo Ok La caccio fuori Perché mi sta sui coglioni Veste Aveva pure bene la macchina Pensavo Pensavo di no Pensavo fosse una merda Invece Invece Ok Che facciamo Che facciamo Su questo mondo Intenso di Watch Dogs Oh Niente È successo che Sono una minaccia Per i cittadini Ma che botta Che io ho occupato Allora Io direi di evitare Di mettere sotto i cittadini In colo Però mi piace troppo Come 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 volano Cioè ragazzi Non mi potete dire Guardate Guardate Che voli Quello sta cagando Si è cagato sotto Si è cagato sotto Vieni qua Ti si è cagato sotto Wei wei Oh Perfetto Allora Io credo che nel prossimo gameplay Arriveremo a 5 stelline Che dite Anzi Quadratini Grazie a tutti Grazie a tutti